Sostanzialmente la stessa cosa, mi deve dire se il relatore è favorevole alla proposta di accantonamento o meno. Onorevole Ferranti, stiamo parlando del 13.18, 13.19, 13.20. In realtà la richiesta di accantonamento è del 13.18, ma conseguentemente vanno accantonati anche qui. Non siamo favorevoli all'accantonamento. Benissimo. Allora, a questo punto, lei formalizza la richiesta di accantonamento? Evidentemente sì. Chi è favorevole all'accantonamento? Prego, non esatto. Chi è all'accantonamento, Presidente? Siamo favorevoli all'accantonamento, ovviamente. Bene. Per le motivazioni già espresse da Collega Nutti. La ringrazio. Chi è contrario? Onorevole Palesi. Contrario all'accantonamento con l'auspicio che vengono approvati. Molto bene. Allora, intanto però stiamo votando l'accantonamento. Quindi, senza registrazione dei nomi, la votazione è aperta sulla proposta di accantonamento del 13.18, Nutti. Bene. Abbiamo votato tutti? La votazione è chiusa. La Camera respinge per 215 voti di differenza. Quindi, a questo punto, poniamo in votazione il 13.18, Nutti, con il parere contrario del relatore del Governo. La votazione è aperta. La votazione è aperta per me. Milanato. Scusate perché forse il Presidente ha commesso un errore. Grazie. 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 Grazie.